Ciao ragazze, outfit non veloce di più. Sono in ritardissimo, devo uscire perché facciamo una seconda festa, questa volta sorpresa per il compleanno di Cree e questo è l'outfit di questa sera. Allora, velocissimamente, collant 30 denari all'incirca color carne, vestitino a tubino nero con cinturina scamosciata marrone, l'anno scorso mi stava un po' meglio, fa niente, devo perdere 2 kg perché se no l'anno prossimo non lo metto più, camicetta a manica corta fatta a body, bianca con collo tirato su, credo si dica alla coreana ma non ne sono sicurissima, coprispalle marroncino di plana perché fa freschetto, con tutta la balza qui tutta carina, un po' frufru, questa sera tanto per cambiare piove, quindi il mio piano di mettermi i super mega tacchi 14 mucati che avevo è saltato miseramente, metterò i soliti cazzarola di stivaletti neri, questa volta quelli bassissimi, ora non li ho qua per farvi rivedere, comunque ve li ricordate, li ho fatti vedere un paio di video fa. Niente, trucco, purtroppo quello che avevo oggi al lavoro, quindi non mi posso cambiare di trucco perché è tardissimo, tra tipo 3 minuti devo uscire, ho fatto semplicemente la palpebra mobiliare sull'argento, leggermente sfumata di nero all'angolo, matita azzurra sotto l'arima inferiore all'interno dell'arima nero, tanto mascara, blush rosa e sulle labbra credo che andrò su qualcosa di nude. Sono irritatissimo, capelli lisci, li sciolgo, li pettino e scappo. Un bacione grande, scusate per la fretta di questa sera e niente, al prossimo video, ciao!